Radio Bruno Radio Bruno presente al 133esimo carnevale di Gavendola la festa è appena iniziata Vai DJ Jus, carnevale di Rizzondo Pertina, caro di piena categoria siamo tutti con la corda con la corda ci siamo è la prima detta insieme a Pianenza Radio Bruno presente benedizione del mio 18, carnevale a grandette, carnevale più antico della maglia cento, volete facciare un'altra insomma tutti insieme Pianchi perché ti ricordi sui calzi a me con mascheroni che si muove su di me è l'emozione di Pianchi di Pianchi Pianchi di Pianchi di Pianchi Radio Bruno Pianchi di 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 Pianchi